Carol sul mercato io punterei molto sui giovani dell'Atalanta penso al terzino Conti, penso al centrale Caldara Hai detto due nomi che a quanto pare sono nel taccuino della Juve perché c'è questo tra l'altro rapporto privilegiato tra la Juventus e l'Atalanta però io dico che in questi casi bisogna bruciare i tempi anche a costo di rimetterci qualcosa cioè se l'Atalanta ti sta chiedendo qualcosa in più cedi perché quello che oggi te lo prendi con 10 milioni tra un anno arriverà a 20, 25, 30 e se arriva qualche sceicco impazzito il discorso muore prima ancora di nascere sicuramente patrimonio del calcio italiano come uomo di fascia anche Darmian è caduto in disgrazia con Murigno a un buon prezzo servirebbe non fermiamo